Ormai è inchiodata la luce, conosco questa storia, non può finir così. Sì, venite vicino, ascoltate quel battito che ancora non muore. Ma che razza di sfigato, questo sembra antiguariato, sembri quasi ritardato, questo è tempo sprecato. Solo noi a ci buttare, quella è roba da buttare, sono pagine ingiallite, frasi a caso già sentite. Sì, scrivi e cancella, niente è memoria, like e condividi, metti all'altra la tua storia. Esci dagli schemi, da quel tuo bontone, stai sciallo e fatti un selfie con il nuovo iPhone. Sei capace di guardarmi negli occhi, e di leggere la storia che ho scritto per te. Tra le pagine di un libro, cosa speri di trovare? Solo carta, un po' di inchiostro, non ho tempo da sprecare. Oggi i compiti li ho fatti, basta leggere e studiare. Ora scrivo un po' di tente, ma mi basta il cellulare. Cosa? Che succede amico? Non hai capito? Per scrivere non serve il cuore, ti basta un dito. Cosa? Smetti di pensare, di predicare. Il mondo è tra le mani, sai. Su cellulare. Se vuoi te lo dimostro, non è soltanto inchiostro. Io scrivo la mia vita, non mi bastano due dita. Sei sempre online, ma non sai dove sei. Il tempo passa e tu cosa fai? Ti basta un touch per fuggire via. Sei fuori dal mondo, in anestesia. Ma apri gli occhi e fai attenzione, e non restare dentro un'illusione. Ci sono parole che incidono il cuore. Tu non le senti in questo rumore. Cosa stai dicendo? Tu per me sei falso. Voglio solo stare in pace, un po' distratto. In fondo con la vita io non ho fatto un passo. Vivi e lascia vivere, io mi adatto. Che succede amico? Non hai capito? Per scrivere non serve il cuore. Ti basta un dito. Smetti di pensare, di predicare. Hai il mondo tra le mani, sai. Sul cellulare. E ora che ci penso, magari ha senso. Quel bacio è ancora forte, è ancora intenso. Non so cosa fare e dove andare, ma per vederci chiaro devo presentare. E ora che ci penso, magari ha senso. Quel bacio è ancora forte, è ancora intenso. Non so cosa fare e dove andare, ma per vederci chiaro devo rallentare. E ora che ci penso, magari ha senso. Non so cosa fare e dove andare, ma per vederci chiaro.